Si chiude il 2023 e l'amministrazione comunale di Pesaro si congeda da dicembre rinnovando il protocollo di intesa sulle linee di governo relative al bilancio di previsione 2024. Un patto che è stato siglato oggi fra comune e parti sociali rappresentate dai sindacati CGL, CISL, UILP, SPI, FNP e UILP. Si tratta di una sorta di bilancio proiettato al sociale che dopo un 2022 di maxi operazione a sostegno della Tari e un 2023 con 150.000 euro a sostegno dell'emergenza affitti, nel 2024 alzerà lo stanziamento di ulteriori 50.000 euro. La prospettiva è di nuovo la destinazione verso la Tari ma con uno stanziamento di 200.000 euro suscettibile di variazioni in corso d'opera nella concertazione coi sindacati. L'anno scorso avevamo messo 150.000 euro che sono stati utilizzati in gran parte per far fronte alle esigenze legate all'affitto che a Pesaro e non solo è una tematica molto sentita e molto difficile da gestire. Quest'anno abbiamo incrementato le risorse portandole a 200.000 euro, quindi un bilancio di previsione importante, questo che verranno utilizzate molto probabilmente per quanto riguarda la Tari e quindi per le fasce più deboli e quelle più in difficoltà. ovviamente varrà tutto condiviso con i sindacati, se varrà confermato o meno questa ipotesi. Quest'anno abbiamo inserito l'amministrazione condivisa che è un progetto partito un mese fa e che si concluderà a marzo e rappresenta poi il modo di fare sociale nel nostro territorio, quindi vuole mettere nero su bianco un modello di rapporti e legami con il terzo settore, con la sanità e che prevede la coprogettazione e la coprogrammazione, quindi stare insieme e progettare insieme il welfare di comunità sul territorio e l'altro impegno molto importante è quello dell'integrazione, aumentare potenziale integrazione sociosanitaria, quindi rapporti con l'Ast e lì già il nostro è un lavoro estremamente intenso e ci crediamo molto e adesso con la riforma sanitaria dovremo impegnarci ancora di più. Poi ci sono delle partite come quella che viene rinnovata di impegno tutti gli anni sull'Alzheimer, noi quest'anno faremo partire dell'Alzheimer Caffè e abbiamo già aperto un punto al PUA che riguarda le demenze e l'Alzheimer, quindi ci stiamo attivando e cresciamo e potenzieremo i servizi.